Ciao a tutti, siamo appena andati a visitare la Basilica di San Francesco dove abbiamo tutti avuto l'opportunità di vivere un'esperienza veramente magica. Abbiamo fatto una connessione molto molto forte con il cuore e questo lavoro che abbiamo ricevuto è stato un grande beneficio per il cuore di ciascuno di noi che si è ripulito ed è stato veramente bello vedere come l'energia che arrivava al nostro cuore è passata direttamente alla terra per nutrire tutta la terra e tutti i suoi abitanti quindi anche per te. Un abbraccio, a presto!